Buongiorno, benvenuti a questo incontro di Luca Comics and Games, grazie anche alla Panini Comics oggi abbiamo veramente un pezzo da 90 del fumetto internazionale. Io darei di dare un caldo benvenuto a Mike Deodato. Benvenuto a Luca. Adesso saremo un'oretta assieme in questa splendida cornice, lui disegnerà e faremo una chiacchierata informale. Voglio vedere molte mani alzate così magari riusciamo a capire meglio come si è sviluppato il suo lavoro in questi anni. Lui è già terrorizzato. Io partirei con la prima domanda a Mike. Ringrazio anticipatamente Stefano che ci darà una mano con le traduzioni di Stefano, che prima non avevo presentato. Mike, un giorno tu hai deciso di fare fumetti. Come è nata questa passione che poi è diventata un lavoro? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. di comici per me, ma è stato da 13 anni che ho visto che ho avuto il dono di drawing. E poi è quando ho deciso di essere un artista di comic. Sì, io da piccolo sono cresciuto vedendo mio padre che disegnava e ho deciso di essere un artista. Mi ha sempre sostenuto, scusatemi ogni tanto parlerò in prima persona ma chiaramente sono un tramite, quindi l'ha sempre sostenuto e gli comprava sempre fumetti. Poi a 13 anni, all'età di 13 anni, ha capito che aveva il dono del disegno ed è stato lì, in quel momento, che avrebbe intrapreso la carriera di fumettista. Pur non sapendo quanto poi sarebbe stato difficile fare il fumettista in Brasile, quante difficoltà avrebbe incontrato. Però sì, è a quell'età, rendendosi conto di essere dotato per il disegno, che ha deciso di iniziare. Le sue prime influenze, che magari lo hanno fatto decidere di fare un fumetto superiuristico piuttosto che altre cose? Perché ho cresciato a leggere superiuristi, ho cresciato a leggere Marvel e DC Comics, e erano i miei mondi. Io ero sempre una persona sottotitoli, io ancora sono, per questo è quello che guardo i miei pensi, non a te. So, i comici americani, i superheroi, mi aiutano avere una grande bambina. Stavo vivendo il mondo di buoni beati evo e tutto questo. Quindi, perché ho cresciuto leggendo superheroi, ho deciso di essere un artista superheroi. Ma... Do I not translate this? Sì, se volete. All right. Sì, lui è cresciuto leggendo fumetti di superheroi, leggendo Marvel, DC, erano il suo mondo. Siccome era timido e lo è tuttora, ed è per questo che tiene gli occhi bassi e guarda la penna invece di guardare voi, il pubblico, viveva in questo mondo di letture di supereroi che lo hanno aiutato ad avere un'infanzia fantastica con i temi cari al mondo dei supereroi in cui il bene vince il male. Insomma, perché da piccolo li leggeva che poi ha deciso che avrebbe cominciato una carriera da disegnatore, da fumettista con i supereroi. Sì. Ma... Ma... La vita è piena di... Le piccole decisioni possono farvi cambiare la tua vita. Quindi, nel 1986, ero invitato a essere parte della squadra di un gruppo di Brasile, per arrivare a Angoulême. E io ero l'unico che non ero conosciuto, ero 22 anni. E io ho avuto la possibilità di stare in Francia e studiare in una scuola di arte. Ma poi, Maurizio D'Souza, che è il creatore di Monica e molti caratteristiche del Brasile, ha detto, Del, se tornare a Brasile, potrei provare a convincere le persone che pubblicano il mio lavoro di creare un libro solo per te. E poi ho deciso, ok, io tornare a Brasile. Ma se avessi deciso di fare l'altra forma, sarei probabilmente fare gli album europei e non fare gli supereroi. Quindi, era una decisione rapida che cambiò la mia tutta vita. 1986, Francia? Sì. La sua vita, in generale, è piena di piccole decisioni, di momenti anche rapidi, veloci, che possono cambiare il corso delle cose e come va la vita stessa. Nell'86, all'età di 22 anni, è stato invitato a far parte di una squadra, di un team di persone, di disegnatori in brasiliano, da un Goulême al festival che si tiene in Francia ogni anno. e ha avuto l'opportunità di restare lì, in Francia, e di studiare in una scuola di disegno, di fumetto. e probabilmente sarebbe rimasto lì se non fosse stato per Maurizio De Sousa, creatore di personaggi come Monica e altri personaggi più o meno noti. Molto famoso in Brasile. che gli ha detto, guarda, se torni in Brasile, parlerò con il mio editore e cercheremo di, diciamo, cuscirti su misura un albo per te, di farti fare un albo. Ed è lì che, in un attimo, con una rapida decisione, Mike Teodato ha deciso di tornare in Brasile e di cominciare a fare supereroi. Insomma, è così che ha cominciato. Quindi, una forte influenza Marvel, DC, ovviamente, in età adolescenziale. Però, riagganciandomi anche a una domanda che fece Nicola Peruzzi qualche tempo fa, so che è stato influenzato anche da fumetti italiani, dai classici bonelliani. Questa te la rubo, Nicola, questa domanda. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. influence on how I draw women faces. Also especially Ivo Milazzo, the artist of Ken Parker. He's fantastic. He's a great storyteller. He has a way to draw face expressions with three or two lines and you can get it immediately. The way that he uses the negative space, so many things to learn from him. I don't know if I ever will do anything like that, but it's fun to try. I'm sorry. I'll get it from here. One, if I want to think about someone in Italy, is Milo Manara, for how I draw my eyes on women's faces, I'm sorry Ivo Milazzo, of Ken Parker, for his way of creating expressions with a simplicity, also with two lines, the way I use the negative space I find extraordinary. He has still got so much to learn from someone like Ivo Milazzo and I don't even know if he's able to apply the lesson in a complete way. Yeah, and of course Guido Krapaks with this, the way that he disconstructs the pages with little panels and close-ups and so many to learn. But till this day I keep being influenced by and I think it's all to make you grow as an artist. You have to keep learning, keep studying, keep discovering, and it's fun. It's just fun to learn and to try to evolve in your craft. So yeah, that's it. I think it's necessary, it's important to continue to learn, to discover, to evolve, to evolve, to evolve. This is not only important, but also extremely fun. I would like to ask Mike something about the evolution of his style of design. Mike, infatti, has begun to design in Marvel because his style was extremely photorealistic. He was a person who was able to reproduce in a way incredibly realistic way the reality that he was around. he was a person who was able to evolve. He was able to evolve, especially with his style of Incredible Hulk, in a little bit more obscure, in certain ways deforming in the anatomy. And, ultimately, with Original Sin, he has turned into a style that mescola the lesson learned in Incredible Hulk and the photorealism that he characterized by his esordi. How has changed his style and how, consciously, has changed his style in the course of years? Well, I hope it's evolving. It's not something I plan to do, it comes naturally. But, at the same time, it's something I plan to do. I don't know if you know my story, but in the end of the 90s, after a huge success in American comics, I was working too much and then my work became very, very, very bad. And, editors didn't want to work with me anymore, and so I stopped working for Marvel and I go to small publishers and small publishers, until I realized that, okay, it's not working, I have to do something about it. So, my decision was, I have to regain my love for comics. I have to work less, make less money, but be satisfied with what I do. And, that comes, that's where I decide I have to evolve, I have to have the love for my art. And, that decision guides me through my whole career to today. Every decision I make about my career, it's based on if I'm satisfied with what I'm doing, and not only about the money I'm going to get. So, yes, I hope I keep evolving, because I try to do it. I try to learn, I try to try different things, which is a tricky thing, because in the industry I work, there is not much room for changing. You know, companies have to make money, so they depend on the taste of the public. If the public doesn't buy the books, they don't make money, they can't pay me. So, there is this much I can change. But, that's my duty, as an artist, to keep trying to change, to keep presenting alternatives to my editor, and it's up to him to use it or not. So, yes, I guess my work keeps evolving with time, and I hope it keeps forever, until I die. Yes, I hope it keeps evolving with time. This change, this evolution of style, is not intended, but in fact, it's something natural, even if at the end of the 90's, when it started to have a success, very significant success, he started to have too much work, and his work, according to his own words, were bad, he worked badly, the reason why the editors with whom he worked before have started to not want to work with him, he stopped working for Marvel, he started working with small editors, until he didn't realize that he could not move forward. He didn't want to continue like this, but it was necessary to keep wanting, to conquer, to conquer, to conquer the love for comics, for the comics, to work less, to find the love and the stile, for what he did, and to work better, not only for a lot of money, but to improve the quality and the stile, to return to be a good artist. It was in that moment, when you realize that too much work coincided with worse quality and things began to go a little stort, it changed his style, it evolved again. when it's a matter of judgment, when it's satisfied of what he does, when it's satisfied of the quality of his work, then it's okay, it's not a matter of money, it's not a matter of money, it's not a matter of that. It continues, as I said before, to try and learn and prove different things, even if in the industry of the fumet, in which he works, there is no space for the change according to the banality of the market, the editor will earn, the editor will earn if he proposes to the public what the public likes, so the author also has limits, to propose changes but moving within certain confines. as I said, it's important, according to him, that it's his duty to propose these changes and try to push and bring new things inside these limits. And anyway, yes, his style has changed, has evolved, and I hope that it will be so for always. I wanted to ask Mike what was the scene of the director who worked better and the stories that he liked the most. Yeah, first of all, I have to be... I have to be diplomatic and say that all the writers are great. And they are. And they are. but I have to choose one, so... Warren Ellis. First, because he's also a favorite of all the other writers, so I'm not doing any... committing any crime here. I don't know... Sorry. Warren Ellis. I don't know why, I just love his script. I used to say that he brings the worst in me, but in a good way, like... because I like drawing all kind of shocking things. I like drawing things that are not weird stuff. And he's the king of all of these kind of things. so... I was... I was... I was blessed with... so I could work with Warren two times, and I hope I can do it one more time. maybe. 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 Maybe... fuori il peggio di lui, mai in una maniera buona, in una maniera positiva, gli piace disegnare cose scioccanti, cose strane, è lì sei il re, secondo lui. Si sente molto fortunato, benedetto dalla fortuna per averci potuto lavorare per due volte e spera vivamente che possa ricapitare. Sì, volevo sapere se ha sempre disegnato storie scritte da altri o se in futuro vedremo storie anche scritte da lui. Io ho fatto qualche lavoro di autore nel passato, quando ho iniziato la mia carriera, e poi ho avuto iniziato a fare Superheroes, perché era il mio sogno di farlo. E poi, da poi, ho aspettato per il momento certo per fare il mio autore lavoro di nuovo. Ma ho riuscito a capire che questo momento perfetto non avrà mai avuto. Perché ho saputo che ho continuato a registrare contratti exclusivi con le compagnie. Quindi ho deciso che, se volevo fare l'autore lavoro di autore lavoro, ho dovuto fare l'autore lavoro di nuovo. Quindi ho fatto che ho creato un blog di Tumblr, chiamato MikeDelDatoquadros.tumblr.com, qualcosa di così. dove ho messo il mio autore lavoro di autore lavoro. Ho iniziato a fare storie corti, perché... ho messo il mio corretto, perché ho messo la storia, ho messo, 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 ho messo. Ho messo, ho messo, ho messo, ho messo. Quando mi sento più conforto, ho fare storie lunghe. E sono all'estate per gratis, nessuno può leggere. Ho faccio l'estate per me, quindi non c'è pressione o a vendere un libro o qualcosa, quindi tutto ciò che devo dire di religione, di tutto ciò che è lì e sono molto soddisfatto con i risultati, almeno per me. Mi sento che ho scoperto in un luogo in un luogo in mio cervello, e è pieno di idee, e non posso aspettare a ottenere il tempo gratuito per andare a lì e mettere sulle idee sulle 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 sulle, è molto divertente, anche quando sono in giro, per se ho ho una idea, ho capito il mio paper e le metano il storio un po' so, è molto divertente, è un po' percorso per me, perché penso a questi stori, Ma è molto divertente, molto divertente. Ho pubblicato recentemente un libro called The Cartoon Art of Mike Del Dato dove ci sono storie che ho scritto ma molto diversa da quello che faccio normalmente. Ci sono dei cartoni. Mi piace scrivere. È molto divertente. E' quello che faccio. Scusate, non posso scrivere e rispondere. All'inizio, prima di iniziare a fare supereroi in effetti provava a fare qualcosa come autore completo. Poi però sono arrivati i supereroi che erano il sogno e da quel momento in poi ho cominciato a lavorare non come autore completo ma come disegnatore. Da quel momento aspetta il momento giusto per riproporsi come autore completo, per provare a fare qualcosa in cui scrive e disegna. ma è giunto la conclusione che probabilmente è un momento che non arriverà mai perché continua a firmare con gli editori per lavori in esclusiva operato. Allora deve farlo adesso, ora che è al tempo e nei momenti in cui riesce a trovarlo. Lo fa in un certo senso e l'ha fatto aprendo un blog su Tumblr che è MikeDeodatoQuadrosTumblr.com in cui scrive storie brevi ed è un autore completo facendo storie si ispirano per esempio a heavy metal, a metal long, lo aiutano, non si lancia in storie lunghe perché ancora con le storie brevi capisce e si migliora quindi tornando sempre al discorso di prima si migliora come autore, capisce come si fa a scrivere una storia, come si fa a fare una sceneggiatura ed è una cosa che non si improvvisa quindi è importante farlo per piccoli passi. Sono cose che fa in maniera gratuita quindi lo fa per il proprio piacere e su questo blog che è di nuovo MikeDeodatoQuadrosTumblr.com le potete trovare pubblicate in maniera gratuita. Non c'è la pressione del lavoro per gli editori per cui questo aumenta anche il suo piacere nel farlo non ha limiti nel dire ciò che pensa e ciò che vuole dire quindi può parlare di argomenti a volte delicati come anche per esempio la religione ed è molto soddisfatto del risultato che fino adesso ho ottenuto sul suo blog. Scrivere, quindi lavorare anche come autore completo non limitarsi a fare disegni quindi per lui è un po' come accendere una luce nel cervello entrare in una stanza e accendere la luce nel suo cervello e trova un sacco di idee e ogni volta non vede l'ora di poter prendere un po' di tempo e accendere quella luce perché è una cosa estremamente divertente è talmente divertente che anche per esempio quando va in palestra quando va in palestra e mentre fa gli esercizi gli vengono in mente se deve segnare, se deve appuntare gli viene l'idea e quindi la scrive ed è una cosa estremamente divertente Un anno fa è stato pubblicato un volume che è Cartoon Art of Mike di Odato in cui in effetti si possono trovare cose molto diverse da quelle che fa di solito e fondamentalmente si, gli piace fare l'autore completo gli piacerebbe scrivere Allora, per favore vorrei chiedere al signor De Odato qual è il suo disegnatore preferito quando ha iniziato a lavorare e perché e qual è il supereroe Marvel che ammira di più, che gli piace di più e anche il perché? Mi piacere preferito, penso che il mio piacere preferito è sempre stato Neil Adams perché è Neil Adams perché è Neil Adams la prima volta che l'ho ho incontato era un paio di anni fa in New York anche se ho lavorato per gli anni in cui ho lavorato per gli anni per il suo compagno di continuazione per il suo compagno di continuazione è stato un buon giorno per me è stato un buon giorno per me è stato molto nervoso perché è stato conosciuto per il suo cambiamento quindi era quello che aveva e poi vi è stato enviato un mondo e ho ricordo quando arrivato a lei ho lasciato il tuo lavoro e ci ho la città l'ho speciale perché è Neil Adams non ha bisogno di dire che io amo le cose come fa, per farlo. Quindi ho detto, oh mio Dio! E poi il giorno, il suo figlio, ha postato su Twitter, quando ho cercato di ricerciare and about drawing realistically with action. My dad told me to study Mike Deldato's books. Wow, yes! His own son! I was so happy. And the favorite character, Marvel character of mine, is Wolverine. Can I do this later? Yes, please. Allora, in assoluto il suo preferito è Neil Adams. L'ha conosciuto due anni fa, l'ha incontrato due anni fa in New York, anche se aveva laureato per Continuity per la società di Neil Adams negli anni 90. Quando l'ha conosciuto due anni fa dice che era nervosissimo perché è noto per avere dei cambiamenti di umore abbastanza repentini per la sua instabilità in qualche maniera. L'ha trovato che stava mangiando un panino e gli si è avvicinato e gli ha detto Hey, ciao, sono Mike Deldato. Gli ha fatto vedere il cartellino e lì Neil Adams ha buttato il panino da una parte e si è alzato e gli ha detto Ah, ma io adoro il tuo lavoro. E lì è rimasto colpitissimo e commosso perché non aveva certo bisogno di fargli complimenti o di insomma di dover dire per far sì mi piace. No, era autentico e questo l'ha molto inorgoglito e colpito. E un altro aneddoto riguardo a questo è su Twitter ha trovato scritto che il figlio di Neil Adams aveva scritto un tweet in cui diceva mio padre per imparare a disegnare per studiare il fumetto e i disegni mi ha detto di studiare sui libri che ha fatto Mike Deldato. E questo l'ha riempito ancora di più di orgoglio. Allora, purtroppo c'è la parte finale su... Si, poi ve lo chiedo una cosa a Nicola Pieruzzi, si? Ok, Wolverine. No, Wolverine perché è corto, è wild, ha una grande head come me e è tutto. Wolverine perché è selvaggio e ha una grossa testa come lui. Allora, con questa ultima battuta io ringrazierei Mike Deldato, Lapanini che l'ha portato in Italia. Grazie ancora per essere intervenuti. Grazie. Grazie. Grazie.